Roberto, un argomento che ci tiene a sottolineare l'importanza tra il cibo e i luoghi, dimmi da dove vieni e ti dico che cosa mangi. Esatto, noi crediamo che un cibo che non abbia ben identificato alle sue spalle il territorio di origine, quindi anche un po' la sua storia, la storia delle persone che l'hanno fatto, sia un cibo di cui in qualche misura dobbiamo un po' diffidare, non sappiamo chi l'ha fatto e da dove viene. Parimenti i territori che non esprimono più cibi, non esprimono più tutta la cultura che è legata a un cibo, sono territori più poveri, immediatamente impoveriti indipendentemente dalla ricchezza del loro prodotto interno lordo o di chi ci vive. Salone del gusto che anche quest'anno si svolge in concomitanza insieme a Terra Madre, quarta edizione di Terra Madre, un evento unico nel suo genere che ritrova a Torino le comunità del cibo mondiale. Saranno da 162 paesi quest'anno, quindi raggiungiamo il massimo di tutta la storia di Terra Madre, grandi focus all'apertura sulle lingue indigene, parlare le lingue madri è necessario non soltanto perché così si conservano, ma perché contengono dei saperi che diversamente senza quelle parole della tradizione vengono perduti. E l'altro grande focus è un documento politico che le comunità di Terra Madre produrranno nei quattro giorni e presenteranno in chiusura dell'evento perché vada in giro per il mondo per dire qual è la nostra visione sul futuro del cibo. Terra Madre che porterà a Torino circa 4.000 tra contadini e pescatori. Quelle che sono le chicche però di questa edizione, ti vogliamo chiedere Roberto, un ipotetico itinerario virtuale per chi vuole venire al Salone, tu cosa consigli? Ma intanto diciamo che con questo Salone organizzato per territori ci sono le regioni per l'Italia, i paesi per il mondo, quindi il visitatore immediatamente entra in un territorio a tutti gli effetti, trova insieme tutti i produttori. Poi ci sono aree che sono di relax e di approfondimento, ad esempio l'enoteca all'interno della quale c'è una sala che si chiama Sala Slow Wine Banca del Vino dove ci sono vecchie annate, i vini slow della nuova guida di Slow Food e anche delle etichette straordinarie che arrivano da tutto il mondo. Poi c'è l'area dei presidi, è sempre una delle cose più belle del Salone del Gusto, in particolare ovviamente i presidi internazionali che hanno grandi curiosità per citare alcune cose. Quest'anno ci saranno le ortiche essicate e anche il sale di canna che vengono dal Kenya, prodotti che hanno un'antichissima tradizione, grandi saperi che si portano dietro e anche un'eccellente qualità. Oppure ad esempio la pecora degli Zulu dal Sudafrica, piuttosto che non prodotti dall'estremo Oriente e dal Sud America. Insomma veramente uno spaccato di tutto il pianeta. E poi c'è un bel programma di conferenze, di proiezioni di film, di seminari, di dibattiti, cioè di momenti in cui anche grandi personaggi, cito Stefano Rodotà piuttosto che Serge Latouche, solo per dire due nomi, vengono a confrontarsi sui temi cari al Slow Food con il pubblico del Salone del Gusto. Quindi laboratori del gusto, teatri del gusto, convegni, incontri. Diciamo che a Torino si può trovare tutto ciò che non si riesce a trovare normalmente. E quindi dalla coda alla vaccinara, dicevamo, alla polenta, anche perché il cibo vuole essere unione. Il cibo è assolutamente unione, soprattutto al Salone del Gusto e Terra Madre si cerca di capire che attraverso il cibo bisogna dialogare, si può comunicare, ci si conosce meglio. Soprattutto noi speriamo che i visitatori che vengono al Salone, al di là della quantità di prodotti rari, particolari, curiosi, vadano a casa consapevoli del fatto che una loro scelta attenta, educata, informata in campo alimentare, determina la loro salute, la qualità dell'ambiente e la qualità della vita delle persone che quel cibo lo producono. Quindi sapere che cosa mangiamo è quasi un dovere al giorno d'oggi. E tra l'altro è anche un piacere, che poi questo è il vero trucco del successo di Slow Food. Chiuderemo il Salone del Gusto lunedì sera con alcuni grandi chef stellati, da Davide Scappina a Crippa, Enrico di Piazza Duomo Alba, che prepareranno dei piatti utilizzando alcuni dei prodotti avanzati dai cinque giorni di Salone del Gusto. Non li buttiamo via, i grandi chef li preparano e soprattutto gran parte di questo prodotto, col progetto Buon Samaritano, verrà distribuito in luoghi come case di riposo e centri sociali di Torino, dove c'è bisogno anche di dare una mano. I numeri sono davvero importanti, sono attesi 180.000 visitatori a Torino, oltre mille tra giornalisti e TV, quelli accreditati. Quindi, che dire, l'appuntamento è all'ingotto dal 21 al 25 di ottobre con il Salone del Gusto e Terra Madre.